Noi mi piace Batti le mani è fatta un cuore Abbiamo sempre una certezza che Fortnite è merda Ma quello è poco ma sicuro anche senza ricostruzioni Come è morto? Oh che è creativa grande Appena finisci il round vi racconto una cosa Jammer, Jammer Ok Ma questa telecamera che cazzo serve? Vabbè, dov'è, dov'è È la madonna Quanti ne ho ammazzati Ho fatto un fuoco? No, un fuoco Uno, due Ma che è la mira del negro eh C'è una mira madonna C'è una mira